Ehi, Dink. Ah, sì, Doink. Sai da dove viene la neve? La neve? Oh, ma è facile. Lo sanno tutti che la neve viene dalla luna. Dalla luna? Ma non essere ridicolo! È risaputo che la neve la creano le fatine della neve! Ah, fatine della neve! E dai a me di ridicolo! Oh, sì, e come? Beh, anzi, sei lo storybot più ridicolo che abbia mai conosciuto! Oh, beh, almeno non sono quello convinto che minuscole fatine della neve vadano in giro a creare fiocchi di neve! Ok, adesso basta! Non posso andare a pescare nel ghiaccio con uno che pensa che la neve fluttuai giù dallo spazio! E io non posso andare a pescare nel ghiaccio con uno che crede nell'esistenza delle fatine della neve! A questo punto prendo la mia roba e me ne vado a casa! Bene, ok, Doink! Bene, Dink! Ciao, ciao! Bene, Dink! Ciao, ciao! Ciao, Dink! Ciao, Dink! Ciao, Dink! Ciao, ciao! Ehi, ragazzi! Allora, la neve scende dalle nuvole come la pioggia! Anzi, è esattamente come la pioggia! Solo che l'acqua si gela quando la temperatura è a zero gradi Celsius o sotto zero! E' il certo signore! E' un certo signore! E io sono la statua della libertà! Già! Non ce la vediamo questa fronte! La neve scende dalle nuvole! Forza, Dink! Andiamoci via! Vengo con te, Doink. Andiamo a prenderci una granizza. Ciao, Storybot. Come si fa il pane? Se il pane vorrai fare un bel impasto, tu dovrai mischia la farina con acqua e sale e poi aggiungi un ingrediente speciale. Chievito! Il pasta tira, ma con forza, e darai al tuo pane la sua giusta forma. Dovrai farlo riposare per un'ora o più, così i microbi vanno su e giù. Loro mangiano gli zuccheri in eccesso, creando anidride carbonica. Il processo delle bolle formerà, e nel frattempo l'impasto crescerà. Se la massa raddoppia, vuol dire che è pronto mezz'ora più o meno, Mettiamolo in forno, buono e croccante diventerà. Poi lo tagli in fretta e si raffredderà. Sì, se il pane tu farai, il fresco di forno lo mangerai. Con burro marmellata scegli tu, non c'è niente di meglio del pane. Pane! Ciao, Storyboots. Quali sono le notizie di oggi? State guardando il notiziario degli Storyboots sul canale 22 e due terzi WBOT, con i vostri anfitrioni Story Storyberg e Bot Botson. Ultime notizie. La scienza ha dimostrato che i pomodori in realtà non sono degli ortaggi. Tecnicamente sono un frutto, in quanto contengono dei semi e crescono dal fiore di una pianta. Oh, sono nella squadra sbagliata! Non ci si prenderà la voce più! Frutta! 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 Anche io vorrei tanto divertirmi così? Ah, anche io, patata. Anche io. Frutta! 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 Grazie a tutti.